è ufficiale massimo giletti tornerà in rai ad annunciare la notizia oggi 11 ottobre è stato l'amministratore delegato della rai roberto sergio confermando le voci che circolavano sul conduttore sin dalla sua brutale uscita dalla 7 con la chiusura improvvisa di non è l'arena più precisamente il ritorno del conduttore è previsto per gennaio del 2024 dunque tra pochi mesi proprio poche ore prima infatti fiorello aveva pubblicato un video promozionale del suo show viva rai 2 sul suo profilo instagram in cui appariva proprio giletti nella clip si vede il giornalista nelle vesti di operaio impegnato al cantiere della nuova location del programma mattutino il direttore generale mi aveva detto guarda che se vuoi tornare in rai per noi è ottimo porte aperte solo che devi fare un passo indietro devi ripartire dal basso e io ho detto nessun problema inizia a dire giletti mentre trasporta gli attrezzi di lavoro e ancora poi ci si mette fiorello che dice massimo ti do una mano io ecco ma riniziare dal basso per ricostruire il glass di viva rai 2 me lo potevi risparmiare anche se mi fa piacere hai capito fiore il glass di viva rai 2 costruito anche da giletti insomma una gag divertente allo stile di fiorello pubblicata non solo per fare pubblicità alla nuova edizione del suo programma che ripartirà il 6 novembre alle 7 del mattino su rai 2 ma anche per confermare indirettamente il ritorno di massimo giletti nella tv di stato di fatti a corredo del post lo showman ha anche scritto massimo giletti sta costruendo il suo futuro in rai massimo giletti in rai la conferma ma per chi aveva ancora qualche dubbio è infine arrivato il comunicato ufficiale di roberto sergio affermando che sì il pubblico della rai vedrà di nuovo presto giletti sul piccolo schermo inoltre l'amministratore delegato ha anche negato la chiusura del quiz show condotto da pino insegno il mercante in fiera chiusura di cui si era mormorato tanto a causa degli ascolti disastrosi del programma non è chiaro ancora se giletti condurrà nuovamente il suo show non è l'arena o se il presentatore sarà al timone di un nuovo programma tuttavia è molto probabile che il giornalista torni sempre con lo stesso tipo di format al di là del nome che gli sarà affibbiato a questo punto non resta che attendere per qualche mese per veder tornare massimo in televisione dopo un'assenza durata quasi un anno a seguito del video pubblicato da fiorello poi potremmo anche vedere il giornalista come ospite a viva rai 2 prima del suo nuovo debutto in rai lexi suggerione le stesse